Il Signore ti dice così, ti ricordi quando tu ti dibattevi nel sangue, quando tu non avevi vita e Dio ti passai a canto e ti dissi vivi, tu da come hai sentito quella parola ti sei incominciato a rialzare e incominciato a vivere. Ma adesso tu stai attraversando un momento nella tua vita che è il nemico, è venuto per rubarti ciò che io ti ho dato, ma io ti sto passando di nuovo a canto per dirti vivi, vivi, perché io sono fedele, come sono stato fedele fino in questo momento, io lo sarò sempre per te, tu non dovrai preoccuparti per ogni cosa che ti sta accadendo, perché il nemico una piccola cosa la ingigandisce per farti allontanare da me, per farti vedere come tu devi ritornare a dibatterti nel sangue, ma ricordati che io sono stato fedele, sono fedele e sarò fedele fino alla fine se tu ti rialzerai, se tu mi darai la tua mano, se tu ti ingamminerai insieme con me, vedrai la vittoria sopra ogni problema e quei problemi che ti sembrano adesso, che non si possono risolvere, che non c'è via di uscita se tu li affidi a me, io ti farò vedere di nuovo la mia fedeltà, confida in me e vai avanti e non aver timore e paura e quando arrivano quei pensieri negativi e il nemico ti vuole rubare ciò che io ti ho dato tu dici io ho messo tutto nelle mani del mio Signore che è fedele, 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 questo ti dice il Signore